La preside della Claudiana, la scuola provinciale superiore di sanità Ertha Burger, ha inaugurato l'anno accademico 2015-2016, il ventesimo dalla fondazione della scuola, che propone corsi di formazione per le professioni sanitarie e che si suddividono in quattro aree, assistenza, prevenzione, riabilitazione e tecniche sanitarie. Da quest'anno, per far fronte al continuo aumento delle domande, ai tradizionali corsi annuali di infermieristica e fisioterapia si sono aggiunti quelli di ostetricia, tecnico della prevenzione e igienista dentale. La domanda è sempre molto alta, noi raccogliamo ogni anno circa 400-450 pre-iscrizioni, purtroppo possiamo prenderne solo la metà perché i posti sono contingentati, quindi la domanda delle professioni sanitarie in provincia di Volzano è molto forte. L'obiettivo nostro è quello di orientare la formazione alla professione, non dimentichiamoci che chi finisce la Claudiana è abilitato a esercitare una professione, quindi molto pratica, molto tirocinio affiancato alla formazione accademica che garantiscono le università. Quest'anno la relazione magistrale che si tiene ad ogni inaugurazione dell'anno accademico è stata affidata a Margarete Hochleitner, medico specialista in medicina interna all'Università di Innsbruck che ha relazionato sul tema della medicina di genere. Abbiamo impostato quest'anno l'intervento sulla medicina di genere, quindi non tanto la differenza tra uomo e donna per quanto riguarda la terminologia, ma quanto in medicina sta nascendo l'esigenza di differenziare proprio l'approccio alla cura, all'assistenza, la sensibilità che hanno l'uomo e la donna diversamente rispetto appunto alla malattia, al decorso di essa, alla prognosi e a come vivono le persone appunto la loro cura, la loro assistenza. Grande l'emozione per i giovani studenti che stanno per intraprendere una formazione che richiederà grande impegno ma che permetterà loro di specializzarsi lavorando non solo sui libri ma anche sul campo. Io sono iscritta al corso di fisioterapia e non vedo l'ora di iniziare il tirocinio perché mi piace molto, starà a contatto con i pazienti e non vedo l'ora insomma. La speranza di riuscire a finire gli studi nei tre anni e impegnarsi tanto e sperando che va tutto bene. Per te invece qual è il percorso scelto? Infermieristica, anche io spero di concludere nel tempo previsto e di avere un gran futuro e mi impegnerò al massimo e speriamo vada bene. Si apre anche per te un nuovo anno, una nuova esperienza, cosa farai? Io ho un tecnico da prevenzione e sicurezza sul lavoro e anche io spero di finirlo in tre anni sperando che vada tutto bene e la cosa più importante è il grande impegno e la determinazione. Bocca al lupo. Grazie. Crepi.